La prima edizione del torneo NBA 3X, un torneo 3 contro 3 arricchito da divertenti attività interattive, sarà a Napoli il 21 e 22 luglio nella splendida cornice di Via Caracciolo e Rotonde Diaz. L'evento presenterà la performance dal vivo del Brooklyn Net Dance Team della franchigia di Brooklyn alla loro prima esibizione a livello mondiale. Gli appassionati potranno ammirarle alle 17 e alle 20 sia sabato che domenica con una sessione di autografi dedicata ai fan. Un NBA 3X è un format internazionale che stiamo portando in questo momento in tutto il mondo, in Europa in particolare e Napoli ne diventa super protagonista con questo torneo che come sempre, come succede a NBA, non è soltanto sport ma è anche moltissimo intrattenimento per tutti. A noi piace veramente l'idea di avere una città come questa che sia entusiasta di natura. Tra l'altro con una cornice straordinaria come il lungomare non potevamo che naturalmente scegliere Napoli e noi vorremmo che Napoli fosse una costante in tutte le nostre attività. L'NBA è un brand che coinvolge molto le famiglie, molto i bambini e cosa di meglio di un lungomare che è stato chiuso al traffico e che vive una vita come ho potuto vedere stamattina, così straordinaria. Il torneo porterà ad affrontarsi tra loro squadre di quattro giocatori divisi per gruppi di età. Divise in gironi, ogni squadra avrà diritto a giocare un minimo di due gare con le vincenti che avanzeranno alla fase finale. Le squadre possono registrarsi gratuitamente sul sito della Gazzetta dello Sport e tutti riceveranno il completino ufficiale NBA. Ospitare qui l'NBA è un evento, è un'occasione che appunto ci riempie di gioia e di orgoglio perché è la prima volta che l'NBA sbarca a Napoli, quindi questo è un dato sicuramente importante e dà sicuramente la cifra di una città che comincia a riappropriarsi di se stessa, dei propri luoghi.